ma il neofita può raggiungere il bbs grazie a un pettine chiuso che non sia così eccessivo the gap lo scopriremo in questo video onda dopo onda e se ti dico onda dopo onda perché c'è motivo subito dopo la sigla ben ritrovato come stai spero tutto quanto bene allora oggi mi sento proprio in forma scusa mi sto con la mia vecchia magliettina dell'esercito perché c'ho sempre i polo dell'esercito qualcuno ha chiesto perché mi hanno regalato e perché mi piacciono allora oggi è un speriamo sia un fantastico che giorno è oggi ammazzo me so me so accegato 12 12 12 12 12 eccolo qua non a mettere 12 allora tema del giorno è sicuramente il discorso il neofita compra il pettine chiuso so che sono discorsi triti e ritriti però li rifaccio perché frase standard tanti si scrivono e tanti iniziano tanti si stanno appassionati quindi è un è un'onda che va avanti onda dopo onda e te li sottolineo l'onda tanto l'avrai capito no se sei uno un po smart l'avrai capito perché allora posso non posso quale compro non compro barba 7 15 20 giorni in giorno 24 ore 12 ore allora io sempre detto sempre comunque detto che io provo tante cose ma tu non ce n'hai bisogno nel senso che devi scegliere quello che fa per te understand poi c'è chi mi dice al marketing se fossi stato così bravo in marketing sarei diventato milionario non te lo nascondo perché su un diciamo così un mondo di nicchia come la rasatura tradizionale peccato che sia di molto di nicchia molto di nicchia e voglio dire gente che riesce a far sto lavoro in un mondo invece tra virgolette meno di nicchia però sempre di nicchia ha svoltato io non è che vivo grazie a questo e faccio i miei esempi e paragoni sui vari prodotti che ho per farti fare a te un'idea su quello di cui hai appunto bisogno e te ripeto io non è che voglio dire magari magari fosse marketing sarei diventato un genio assoluto molto pieno temere ricco sfondato e per fortuna ringrazio dio che con quello che faccio questo che tu vedi io c'è vivo e mi va più che bene e sono pure contento di questo allora pettine chiuso io oggi ho selezionato il mio pettine chiuso con il quale mi trovo abbastanza bene e con il quale c'ho un buon feeling c'ho una barba abbastanza lunga abbastanza gli metterò delle lamette performanti costano un po del più rispetto alla media però non ti fa il problema perché magari prima tu compravi 18 multilamo e spendevi il triplo quindi più di tanto non ti puoi lamentare secondo me perché capisco magari pagare 3-4 euro un pacchetto della mette che so 5 ti sembra pura follia però se ti reggancio il discorso che ho fatto pochi secondi fa non è tanta follia e allora andiamo andiamo subito al sotto però perché sennò si addormentiamo si annoiamo allora c'ho anche la possibilità oggi di presentarti il barrist e man eccolo lo provai qualche tempo fa qualche tempo fa adesso hanno credo cambiato qualche cosina allora questo qui bello con l'etichetta del faro quindi il mare il wave waves waves onda dopo onda allora io l'ho lasciato integro non l'ho aperto perché ha questa plastichina che serve a sigillarlo e l'after io ho dato una snasata è stato più forte di me non potevo mi dispiace ma quando si parla di tema marino non non ce la faccio allora cerchiamo di analizzare bene insieme cosa c'è nel sua nella sua piramide olfattiva allora c'è la felce le spezie la tonka bean quindi la fava tonka e non può mai mancà non può mai mancà poi abbiamo il muschio il geranio e note marine allora all'interno di questo sapone c'è te lo dico il latte di capra il latte di cocco il burro di difficile pure da pronunciare certe volte guarda perché me c'è in carto c'è il cupuacu cupuacu ma dai un litro di olio di cupuacu allora poi abbiamo il burro di cucum cioè il burro era di cucuacu siamo capiti il burro di carité olio di avvocato e olio di ricino allora non so quanto sia grasso non lo so poi una cosa che volevo vedere insieme a te perché non l'ho spulciata questi giorni anche il tallov è presente però leviamo st'etichetta perché non ci fa comprende bene le cose ah sì ok l'abbiamo tolto allora eccolo qui andiamo a snasare anche se io già mi sono fatto un'idea allora il profumo è allora te lo spiego non è marino come lo zingari man come il navigator o watchman che watchman è un po' più complessa come situazione marinaresca quindi come tema del mare ma è un profumo che mi ricorda un po' tipo il draccar noir ma non è draccar noir è sapone ma non fa schiuma e mi ricorda qualcosa che ho utilizzato nella mia adolescenza rotta de collo allora prendi con le pinze quello che sto dicendo perché non corrisponde al 100% perché vado di ricordi e quindi potrei sbagliare a me è una profumazione piace però non c'è l'odore dell'ozonato per farti capire è più come se fosse un profumo fresco che si sposa bene col discorso marino col contesto marino ma più di tanto non lo sento il richiamo della natura del mare spero che ti avete fatto capire qualcosa francamente e mi ricorda un po' vado ripeto a memoria perché non l'ho più preso non l'ho più utilizzato e mi sta risa lì un po' la voglia ma mi ha dato quella sensazione del lux marine ce la presente? io quando ero adolescente da tutte le parti però è una vita e mezzo tra il draccar noir secondo me e il lux molto piacevole non è fortissimo si sente bene e non me la tocca si abbastanza grasso allora nel frattempo tolgo questa roba lo metto qui mi faccio aiutare oggi dal gladio pettine chiuso la mettina bella ignorante della Kai veteran blue io sposto sta roba scusami ma lo devo fare e iniziamo il nostro trattamento vediamo se con il gladio riesca ad avere un bel bbs o una buona rasatura per chi mi conosce già lo sa l'esito della rasatura però io lo rifaccio vedere non è un problema per me ecco finite che la mette mannaggia mo mo che fa mo fa un po' vedere se tante volte li trovo sono belli sti fori Honda perché dici ma ne potrei controllare prima eh se li controllo prima è tutto facile allora vabbè andiamo sulla giapponesina ma sempre sulla giapponesina andiamo con le scusa andiamo con le feather e vediamo come si comporta quindi dovrò cambiare il titolo del video perché lo mette Kai invece ce lo mette feather vabbè stiamo lì dai non si preoccupano di queste piccole cose ok oh non mi fate più sentire mi dispiace non vuole essere un attacco a chi l'ha scritto per carità perché fui anche uno dei primi a dista castroneria cioè chi mi ha scritto un tiktok io la lametta tanto la giro e non cambia niente lei la mette a doppio filo qualsiasi lametta c'ha solo un filo per lato non è che se tu giri io lo utilizzo così mi tagliate quasi no è unico perché il filo è un che è tipo un triangolo è fatto capire quindi la parte sopra il tagliente è unica allora andiamo a bagnare con l'acqua calda il nostro barista e il barista hai capito vado a bagnare il viso scusa tanto ghiacchio ma sicuramente ne so il discorso che ti ho fatto pure ma sicuramente me lo so pure perso perché mi capita a me di perdermi ogni tanto perché ho tante cose che mi rurrono ma non mi sento proprio me perdo è più forte che me perdo capita succede allora andiamo subito a vedere come va scoliamo l'acqua eccolo qui aspetta mi raccomando sempre un profumo molto piacevole molto elegante elegante molto elegante ok that's right come on let's go to come si dice let's go to she let's go to she spero sicuramente l'ho detto male però vabbè allora profumo incredibile bello spaziale elegante profumo profumo non note naturali nel senso che non è oh l'odore dell'onda del mare che si è mossa che pesciolino mi ha fatto ciao no 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 c'è un po' di fame non ci fa caso senti lo stomaco che borbotta acqua ne vuole tanta proprio tanta tantissima lo sto insuppare come se fosse cosa un gentilino non no 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 lo no 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 cioè pure fino a qua mi ha arrivato no voglio vedere quanta acqua mi prende capito lo so che per te magari è un po' una noia mentre sei iscritto iscriviti a sto canale forza dai non ho mai fatto più di tanto però fallo dai 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 cerchiamo di arrivare a bei numeri allora devo dire che non tollera più di tanto l'acqua in eccesso non tollera e cioè penso di averti detto tutto però però dobbiamo valutare sul viso allora look at me neofita faccio quello che posso non te pensa a sperar miracoli allora per quanto riguarda adesso la scorrevolezza mi sembra abbastanza buona molto buona che abbastanza è poco molto buona però devo considerare quel fatto che ho sotto una feather quindi diciamo che il gran lavoro lo fa lei allora profumo piacevolissimo 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 non ti posso dire da no però ti ripeto un saccone che mi devi dare giusto quantità d'acqua e ti devi fermare allora più stendi e più è facile che il rasoio possa andare in profondità capito? quello è un piccolo trucchettino perché più la superficie è piana e più lavora bene infatti dove è ostico il taglio sul mento poi c'è questo mento spigoloso mamma mia sai che danno a mangiare qualcosa perché sennò qua casco per terra me la sto sto andando lento apposta per chi vuole iniziare perché io non amo la velocità te lo dico subito a me le cose mi piace gustarle che sia una barba che sia un piatto da pasta che sia un'altra cosa mi piace perché mi vivo il momento quindi non vado come tanti che sembra che ci hanno non lo so che cosa la sveglia sotto al sederino a me piace gustarmi la cosa la situazione tende a rimanere molto compatto come non tende a fare molta schiuma allora vediamo senti come cambia il suono della lametta come taglia diversa spero che tu abbiano dato il sapone fa il suo egregio lavoro posto scusa per rumore dello stomaco come perdonami se lo senti ma sto in piedi dai sei capito come me la prendo io tranquillo perché se devi iniziare questa questa avventura questa avventura alle prime rasature devi avere il tempo che ti serve tranquillo tranquillo anche io anche io tocca tagliare video se non so credibile che ti serve o che ti serve come anche io che ti serve ma che ti serve per rumore di tutti i punti che se devono aprirsi e saperti bbs perché no certo assolutamente sì qua quasi stiamo tanto qui inutile una battaglia persa per me persa perché qua comunque ogni volta a me succede qualcosa aspetta mi sciacquo acqua fredda mi raccomando allora spendiamo qualche parola sul sapone giustamente perché oggi diciamo questo video è incentrato su due punti fondamentali uno il rasoio punto secondo il sapone che è una novità che è arrivata da poco sul sito gotfella.com allora devo dire che la profumazione la senti la percepisci in viso che mi è morta la telecamera è morta la telecamera d'altronde è vecchiotta forella più che tanto non gliela fa cioè speri mi auguro che ho potuto far vedere qualcosa anche se poi l'importante è vedere il viso non tanto il lo sgrullà del rasoio però comunque sia ci tengo allora riprovo non lo so come verrà fuori sto video però purtroppo non ci posso fare niente quando sei impegnato a guardare 300 cose non ce la fai allora qui e qui me so preso il bbs l'ho raggiunto strano quindi devi sempre assecondare il verso mi raccomando molto importante sempre perché ti aiuta tantissimo a raggiungere poi l'obiettivo finale il sapone spendo appunto queste parole è buono molto buono lo utilizzare con meno acqua rispetto a come ho fatto io sicuramente più effetto stucco per fatte capire e la profumazione buona ti avvolge ma adesso mi ha mandato un attimo in saturazione in assofazione anzi non lo sento quasi più in viso però se mi tocco le mani faccio così lo sento quindi buono 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 allora andiamo con il suo relativo aftershave aspetta fammi puli sto schifo dovrei comprare una nuova telecamera adesso proprio eccoci qua pulisco anche il pennello cosa molto 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 importante l'after sta sganciando la sua perché ce l'ho aperto la sua fragranza quando non ci fosse un domani e andiamo subito a mettercelo in viso così vediamo se la rasatura è stata piacevole o meno perché alcolico sto profumo strepitoso allora c'è l'alcol ma non ho sentito niente 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 zero quindi luca mi stai dicendo che con il gladio posso tranquillamente farmi il bps sì sì lo puoi fare allora il profumo del tuo barba è spettacolare è spettacolare buonissimo almeno per i miei gusti che sicuramente non saranno come i tuoi proprio questo pelo villoso qua che esce fuori ah vabbè ma stiamo al bagno cioè voglio dire che il bagno deve mettere fracca se lo metti c'è un problema mmm allora molto piacevole il sapone è un ottimo sapone non lo devi far diventare troppo voluminoso perché sennò tende come hai visto qua un pochetto sarà seccato perché non bisogna nascondere nulla bisogna sempre di tutto mi è piaciuto devo dire che in controvelo avendo appunto annaquato troppo il sapone ho sentito un po lavorare il la lametta questo te lo posso garantire l'after shave non mi ha bruciato per niente nonostante ciò mi sono fatto una sgranatura qua e qui col pettine chiuso pensa che te so di però è andata molto ma molto bene la profumazione è molto piacevole molto buona bella il discorso adesso non te so di quanto dura in viso quindi magari nel prossimo video se aggiorniamo comunque dai ragazzi non è un dopo barba parfum ti può durare un paio di ore tre ore un po' dopo che è normale che tende ad andare via normalissimo perché il profumo costa tanto e dopo barba poco eh ci sarà un motivo no? vabbè io ti ringrazio che sei arrivato fino a qua purtroppo che devo fare? problemi tecnici la telecamera è vecchiotta eh anzi che ancora legge mi dispiace per questo e niente come dico sempre buoni acquisti e buone sbarbate e mi raccomando non guardate solitanto i short che faccio guardate pure il video che la spiego tante cose nei short è una cosa 58 secondi cioè manco vabbè no faccio sta battuta buoni acquisti e buone sbarbate e noi ci vediamo al prossimo video hai capito? onda dopo onda siamo sempre più lontani grazie